ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di contatori del tempo un episodio dedicato al mako 2 ebbene sì come molti di voi sapranno avevo intenzione di acquistare un orologio entry level giapponese possibilmente si giapponese per per quest'estate no per divertirmi un pochino ci vuole un entry level da alternare agli altri orologi un pochino di livello superiore che ho giusto per fare un po di purpurri per divertirsi un pochino no l'anno scorso ho avuto il citizen pro master il secco skx quest'anno non ce li ho quindi un sostituto di questi anche se non degnissimo no magari cioè anche anche un vagari mi sarebbe andato bene no per assurdo ci voleva quindi era già da un po che stavo studiando guardando quando è capitata l'occasione con voi sono sincero no mi è capitata l'occasione che mi ha contattato un'azienda di un'agenzia di promozione inglese inglese che mi ha offerto in test fare un test sul mako 2 anniversario cioè il nuovo mako 2 che è uscito quest'anno da qualche mese da qualche settimana e che rappresenta il ventesimo anniversario celebra il ventesimo anniversario della nascita del mako 2 quale migliore occasione per prendere l'orologio e tenerlo in collezione perché me lo hanno offerto da tenere in collezione quindi a cavallo donato non si spara in bocca e questo sarà il mio orologio estivo ora anche voi dovete un attimino poi sgrossare durante la recensione il fatto che l'orologio mi è stato messo a disposizione e quindi donato e magari sono un pochino preso dall'entusiasmo ma come vedrete non è che mi faccio fregare tanto nel senso che tanto l'orologio me l'hanno lasciato posso parlarne bene posso parlarne male ma che mi frega non mi viene più niente in tasca a meno quindi non è che mi lascio andare a facile entusiasmi quindi sarò cercherò di essere più asciutto possibile però voi sappiate che avendomelo regalato posso anche essere un pochino buonista non nei suoi confronti comunque un orologio che ho sempre tenuto in considerazione ho avuto non ho mai avuto il mako 2 ho avuto il re i2 che praticamente è la stessa cassa ma con il quadrante differente e la ghiera anche forse differente no re i2 ma con due nasce nel 2004 appunto quindi siamo al ventesimo anniversario 2024 nasce nel 2004 la prima versione è riconoscibilissima perché ha il pulsantino ad ore 2 quel caratteristico pulsantino che serve a regolare il giorno della settimana perché è day date il giorno della settimana poi nel 2015 addirittura esce la seconda versione che non ha più il pulsantino ed è quella che abbiamo conosciuto fino ai giorni nostri nel 2023 esce il mako 2 ma con 40 mm quello che va per la maggiore adesso quello che tutti abbiamo visto che io non ho ancora toccato con mano che è solo data però è un po' differente dal mako 2 originale non ha più le sfere adaga non ha più il day date appunto anche l'inserto ghiera è differente no con quei dentini come il kamasu per esempio che ha sempre avuto il mako 2 e adesso nel 2024 esce una reddizione che ha il vetro in zaffero o finalmente al mako 2 prende il vetro zaffero come tutti gli ultimi orient diver che si rispettino vedi kamasu vedi mako 2 da 40 hanno tutto il vetro zaffero anche questo ha il vetro zaffero è in una particolare livrea una colorazione subito riconoscibile particolare che va a celebrare questo ventesimo anniversario e occorre anche dire che è realizzato in soli 3000 pezzi 3000 pezzi limited edition e chi ce l'ha ce l'ha chi non ce l'ha ce l'ha io ce l'ho adesso una volta che vi ho infarinato un attimino su di cosa stiamo parlando mi occorre ricordarvi il quinto watch meeting il quinto raduno del canale che si terrà via reggio presso la gioielleria pasquali domenici domenica 12 maggio alle ore 15 vi aspetto numerosi ragazzi ci incontreremo nella zona piedonale fuori dal negozio ci saranno vari amici che ci vengono a trovare ci sarà vulcain longin oris orogi caramai l'amico umberto pellizzari noto apneista e uomo di spettacolo ci incontriamo fuori scambiamo pareri sugli orologi io farò anche un video così vi coinvolgerò un pochino e chi più ne ha più ne metta poi entrate dentro il negozio provate gli orologi guardate le novità che portano a quelle case lì le cose che vi vogliono mostrare no ad esempio vuoi che credo porteranno spaccato di un calibro per mostrarvelo sono tutte cose interessanti che puoi mettere nel bagagliaio di un appassionato detto questo vi mostro l'orologio del giorno che oggi il mio omega speed master con centurino in nabuc pelle scamosciata si direbbe scamosciata la parte interna nabuc è il fiore della pelle quindi è un orologio che indosso spesso sono appena andato in palestra sono tornato si vede che sono un pochino no e quindi questo qua mi serve per tenere i tempi di riposo durante una serie e l'altra detto questo adesso giriamo la nostra simpatica camera diamo uno sguardo al maco 2 anniversary diamo uno sguardo ai risultati ottenuti dalle misurazioni sul campo diametro cassa 41.8 mm ingombro trasversale al polso 46.7 spessore 13.2 e interasseanza da 22 mm sono le classiche misure del maco 2 quelle che siamo abituati a vedere un orologio dedicato alle immersioni da 42 mm che rientra nelle proporzioni abituali dei divers da polso rispetto alla versione da 40 mm risulta quindi maggiormente presente ma ritengo sia una peculiarità che a questo punto diventa una valida alternativa per molti d'altronde un orologio sportivo può e deve essere così sul mio polso da 19 cm di circonferenza appare sì ben piazzato ma anche armonioso non deve infatti trarre in inganno lo spessore di 13 mm rotti una misura che a prima vista può destabilizzare in quanto leggermente superiore alla media ma che nelle realtà dei fatti viene spalmata su di un diametro da 42 restituendoci delle proporzioni visivamente equilibrate ciò è anche dovuto all'esigua altezza del lato carour che come si può apprezzare risulta sinuosamente filante abbiamo visto in passato che talvolta l'architettura verticale di un diver prevede una sorta di torretta applicata sulla cassa in questo caso invece abbiamo una ghiera girevole alquanto compatta che si integra alla perfezione senza lasciare alcuno spazio proprio questa compattezza riesce a garantirci una visuale pulita tra l'altro il vetro zaffero è a filo con la ghiera e il fondello riesce a rimanere all'interno dell'altezza delle anse insomma si fatica a capire dove siano questi 13 mm il tutto appare più sottile di quanto sia ho appena menzionato il vetro zaffero che è la grande novità di questa limited edition infatti è la prima volta che un maco 2 day date si presenta in questa veste e da questo punto di vista rappresenta la prosecuzione del nuovo corso di orient un'altra differenza rispetto ai maco 2 di serie è data proprio dalla ghiera che qui troviamo in acciaio a tonalità brunita una sorta di nero metallizzato che visivamente tende a rimpicciolirla soprattutto se vista di lato laddove il nero quasi scompare lasciando in evidenza l'acciaio della caro sinceramente questa è la soluzione che rientra pieno nei miei gusti e che perlomeno si discosta leggermente dalle solite soluzioni adottate lasciatemi poi spendere due parole a riguardo della funzionalità della ghiera stessa ci troviamo di fronte ad un'azione meccanica degna dei seiko utilizzo quel benchmark perché la sensazione di fluidità nella rotazione a 120 scatti è piuttosto simile e piacevolmente percepibile sembra quasi siano presenti dei cuscinetti a sfera da tanto fluida che risulta essere cosa chiaramente che non corrisponde alla realtà dei fatti per quanto riguarda il design e le finiture della cassa ci troviamo di fronte ad un orologio canonico che fa della sobrietà il proprio punto forte forme semplici e finiture essenziali un opaco generale figlio di una leggera satinatura presente sia sul lato cassa che sul dorso anse con una smussatura semi lucida a separarle smussatura alquanto ampia e poco delineata quasi una sorta di scivolo insomma non è certo una lavorazione da segnalare come rimarcabile ed eccellente piuttosto la si può definire come funzionale all'utilizzo in quanto non ci si sentirà in colpa se il tempo andrà a lasciare dei segni sulla sua superficie la sua indole battagliera trova un ulteriore elemento di conferma nelle spallette di protezione corona voglio manifestare un segno di apprezzamento per come orient si pone su tutti i diver nei confronti di questo elemento costruttivo vanno ad abbracciare la corona di carica fin quasi alla sua estremità garantendo così una efficace protezione agli urti corona vita che fa il paio con il fondello avvitato solidamente al corpo cassa in modo da garantire 200 metri di impermeabilità dichiarati dalla casa un plauso al fondello chiuso che ci fa percepire maggiore solidità un po meno applausi alla semplice superficiale decorazione al laser presente secondo me il fatto che sia cieco è comunque fattore preponderante rispetto al minus riscontrato tra l'altro è presente anche la numerazione progressiva unica relativa alla limited edition il che fa sempre piacere al di sotto c'è il calibro f69 22 realizzato da orient o per meglio dire da epson la holding del gruppo esiste infatti anche una versione epson chiamata y n55a che viene rilasciata per equipaggiare marchi terzi l'fs 922 è un calibro entry level con 22 rubini e 40 ore di riserva di carica oscilla 21.600 alternanze orarie e presenta sia la carica manuale opzionale che lo stop secondi a corona estratta si tratta di un meccanismo basico privo di alcun valore intrinseco la cui prioritaria funzione è quella di far muovere le lancette e restituirci l'orario lo si evince anche dall'essenzialità dell'aspetto estetico l'unica decorazione è il rotore marchiato il resto si riduce a dei semplici componenti in metallo grezzo ma ruotiamo l'orologio e torniamo al lato a qui possiamo da subito notare alcune particolarità che lo identificano come limited edition ad ore 4 cioè i 20 minuti è presente la dicitura celebrativa relativa al ventesimo anniversario così come la parte azzurra dell'inserto in alluminio si estende fino al 20 se non bastasse vi sono altre due soluzioni identificative rispetto ai maco di serie il piano quadrante e la finitura guild la trama di fondo è riconducibile alle onde del mare una stilizzazione sinusoidale orizzontale che riempie il quadrante senza però appesantirlo è infatti maggiormente visibile in determinate condizioni di luce laddove la tonalità diventa azzurra e la trama risalta per contrasto per contro quando il blu si tramuta nel quasi nero tendono a mimetizzarsi devo anche aggiungere che l'effetto restituito non è quello di una tinta unita non è neppure definibile come degradé semplicemente alcune porzioni di quadrante appaiono più scure appunto a seconda dell'inclinazione dell'orologio a parer mio si tratta di una soluzione alquanto accattivante e promossa a pieni voti un po più divisiva può invece risultare la scelta di rifinire le sfere con accenti gold è chiaramente una decisione mirata a celebrare il ventesimo anniversario ed è quindi comprensibile la ricerca di un tocco dorato glamour resta il fatto che su di un orologio sportivo può essere visto come un elemento superfluo e anche un po troppo elegante è vero che è una soluzione adottata da numerosi brand anche famosi vedi tudor black bay 58 ma in quei casi anche gli indici sono palesemente gilt mentre qui ci troviamo di fronte ad una sottile cornice rodiata in pratica si percepisce solamente il bianco del pigmento luminescente ed è totalmente assente l'effetto panda stesso discorso per la cornice della finestra giorno e data anch'essa con l'ora acciaio e fuori contesto rispetto agli accenti gilt per il resto si tratta di un quadrante ben leggibile disposto classicamente con i numeri arabi ai quarti e dei date a sostituire quello ad ore 3 la tipica configurazione del marco 2 quindi che qui gode però della presenza del trasparente in zaffero che consente un'eccellente lettura dell'orario lo si evince anche dalle riprese che appaiono prive di fastidiosi riflessi riesce a risultare comprensibile anche in assenza di luce laddove tutti gli elementi deputati ad una specifica funzione appaiono restituire una buona luminescenza gli accenti sul quadrante le sfere ed anche il dot ad ore 12 cosa che non sempre accade non rimane che accennare al bracciale anche se ci sarebbe veramente poco da dire qui non è cambiato molto e incontriamo nuovamente lo stesso componente che equipaggia le precedenti versioni le maglie sono solide ma i finali sono in acciaio stampato e ripiegato così come la clasp è sempre la stessa di fornitura generica con quella cerniera interna in lamierino particolarmente sottile di positivo c'è la tripla chiusura di sicurezza due scatti più pulsanti di sgancio e i quattro forellini di regolazione un po poco per salvarlo dall'insufficienza possiamo tornare in presa diretta per le considerazioni finali sì il bracciale è quello che lo sappiamo che orient o gli orologi giapponesi entry level hanno sempre questo bracciale un pochino insufficiente diciamolo un pochino leggerino finali vuoti cerniera della clasp in lamierino però devo dire che una volta che l'ho messo al polso poi tutta questa mancanza non si nota cioè una volta che l'ho il polso sia un po rumorosino è leggero rumorosino però fa il suo come direbbero i miei amici del canale detto questo non è il mio scopo quello di utilizzarlo con il bracciale infatti io ho già messo al volo qua come potete vedere un bellissimo nato blu un nato blu metallizzato che avevo a casa da 22 che secondo me fa il suo con questo simpatico orologio fa panda come si può dire un simpatico nato che ho messo single pass chiaramente perché non è che voglio appesantirlo con tutti quei giri gori tondi che gli sbucano fuori e quindi io lo utilizzerò così credo a dire il vero ho ordinato anche un cinturino un cinturino in cauccio in silicone blu tipo tropic però non è ancora arrivato e non ho potuto fare la prova per conto avevo fatto la prova con questo tropic che avevo preso su marketplace qualsiasi ma non mi piace è troppo rigido è veramente ricido questo questo cinturino soldi buttati via d'altronde si fanno le prove non si fanno poi anche so spezzone qua veramente lungo e mi va io che ho il polso grande mi va addirittura a fare il giro attorno al polso quindi ho scartato l'arancione anche perché poi utilizzerò il longin skin diver con il nato arancione quindi due arancioni non è che quindi questo blu qua secondo me ci sta bene io opto per questo blu qua per adesso per l'estate lo utilizzerò così ragazzi poi per il resto quali sono i pro e contro dell'orologio come vi ho detto il calibro basico il calibro basico non è che ci possiamo aspettare di più degli orient entry level no siamo un calibro che ti deve dire l'ora e basta non è che puoi andare in giro a vantarti che dentro ci siano delle cose particolari o delle finiture particolari niente proprio semplice grezzo come deve essere 42 mm rispetto ai 40 del maco 2 da 40 cosa dire secondo me sul mio polso anzi ve lo faccio anche rivedere sul mio polso ci sta 42 ci stanno perché è un diver d'estate vado con questo chi mi può dire qualcosa non ho bisogno di un orologio elegante ne ho anche altri ho il legend diver che da 39 ad esempio più piccoli ce li ho ci vuole un colpo al cerchio un colpo alla botta un orologio un po più contenuto un orologio un po più grande lo skin diver da 42 ad esempio anche quello il mio si master di omega da 42 un po un po un po altri punti deboli non non ne posso bracciale calibro che punto debole ma insomma poi il resto il vetro zaffero guadagna al vetro zaffero rispetto al maco 2 e questo al maco 2 day date classico e questo è tanta roba per chi volesse questo design e questo momento di avere questo orologio non so se poi faranno la produzione di serie con i vetri zafferi c'è questa limited edition e siamo tutti contenti la ghiera in alluminio l'inserto ghiera in alluminio potrebbe anche graffiarsi questo sì questo sì però io ho notato che ha il bordo ghiera che è più elevato rispetto all'inserto interno e il vetro addirittura in recesso rispetto al all'inserto ghiera quindi potrebbe risultare abbastanza protetto però si rovinerà sicuramente in alluminio non è in ceramica un vetro zaffero ricoperto quindi poi è bello a vedersi quelle lancette l'igilt color oro bisogna abituarsi a me non è che mi danno tanto fastidio è cioè l'orario si vede pace bene poi vabbè c'è l'originalità della ghiera che in acciaio brunito nero questo mi piace molto l'acciaio brunito nero qua gli dà un aspetto un pochino più solido quasi non sembra non si vede quasi la differenza tra l'acciaio e il nero dell'inserto ghiera che è opaco no è lucido però mi dà l'idea di un pezzo di un blocco unico sopra la cassa questo mi piace molto come aspetto estetico rispetto ripeto secondo me meglio dei maco 2 dei date soliti qua abbiamo guadagnato qualcosa in originalità anche le ondine del mare che possono sembrare invasive così occhio nudo non si vedono nemmeno dai sono lì sono simpatiche l'orologio che promuoviamo no io promuovo anche perché me l'hanno regalato cosa devo dire che lo boccio no i punti deboli l'ho detti non è che sono stato così buonista no datemene a meno altro comunque questo qua io lo utilizzerò quest'estate anche perché mi piace al posto sta bene sta bene insieme agli altri e chi più ne ha più ne metta voi mettetevi un po quello che vi pare che tanto non mi cambia niente a me io ce l'ho e basta ragazzi io vi ringrazio per essere arrivati fino qua spero vi sia piaciuto il video l'orologio il presentatore il modus operandi poi di più non so vi ricordo quindi gli appuntamenti fisiche come sempre sono quando voglio io il più spesso possibile qui su youtube love grazie a tutti Grazie a tutti.